Buonasera a tutti su De Agostino Valdes, Radio Sant'Ele, la 113.8 della modulazione frequenza. Spero che arrivi Davide, così non è una mano, ma io tutti ricordiamo di andare in oso diretto. Devo un saluto a tutti indistintamente senza ne bocare mancuno, senza fare nomi e senza che mi dilungavo oltre, se ricordo 113.8 della modulazione frequenza in Quarto Sant'Ele, Radio Sant'Ele. La traborda si annuncia che ci era una sorpresa, ma questa sorpresa di più ad essere andata sabato passato, pochino non riuscissi, partevo su una traborda con la trasmissione che fanno ballando e cantando, una trasmissione delisio che Radio Sant'Ele a riproponere dopo che non è successo, giustamente potrebbe avviare una trasmissione che si guida, ma non pago, e non da riproponere come cento di questo sabato, perciò chi è sintonizzato a Radio Sant'Ele, chi in Navarra sintonizzato a Radio Sant'Ele e non sposte mai questa frequenza. e se intende il sabato dei stressi, esco a tre mesi, questo programma delisio, ballando e cantando. Ora, Augusto, ci vengono noi ospiti, come sempre, Veronica Visano, Maurizio Gastaldi in San Giettaro e Veronica in sabbo Gesùa, che si va a rintendo un brano nuovo, scritto da Maurizio Gastaldi, San Ruga e Susoli. San Ruga e Susoli, non Susoli, San Ruga e Susoli. Vabbè, Veronica debile ancora, lei da riproponere sempre, ma la scusate, ma noi facciamo male, ma noi siamo abituati, forse secondo me è più facile questionare il suo sardo che ha Veronica, ma non si da vedi da male che andrò da riproponere questa fonetica del suo sardo nostro, non che Deo sia un maestro, però in fumetica penso che ha anche una cosa che ci rende a combinare. Ora, si lascia sull'illusione della chitarra di Maurizio Gastaldi, la voce di Veronica Visano, San Ruga e Susoli. Buon ascoltamento e buon divertimento. Grazie. 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 a Veronica Pisano